Sui social non si muove foglia che Selvaggia Lucarelli non voglia. A finire nel suo radar, Andrea Preti, noto al momento per essere il fidanzato di Claudia Gerini e prima della liaison, famoso per essere stato nel casto dell'Isola dei Famosi 2016. Qualche giorno fa Andrea aveva postato su Facebook un post inerente ad una iniziativa benefica a favore di Amatrice. In particolare si trattava di una raccolta fondi per le zone colpite dal terremoto a fronte di un lancio in tandem col Paragatute e insieme alla Gerini a Nettuno. Il contenuto su Facebook è stato prontamente analizzato dalla giornalista che ha smontato pian piano tutte le informazioni sul conto di Preti e diversi account social e il ragazzo si era definito paracatutista, professionista ed esperto di volo. La blogger però ha bollato la sua iniziativa come, citiamo, un patetico tentativo di farsi autopromozione. Ora arriva la risposta del fidanzato di Claudia Gerini che ancora una volta sui social ribadisce la sua totale solidarietà ad Amatrice e la sua volontà di dare una mano. Mi dispiace molto, dice, se la mia iniziativa è stata considerata un tentativo di pubblicità e speculazione su una tragedia come quella del terremoto. La mia volontà è quella di fare del bene e portare più soldi possibili a chi ha perso tutto attraverso uno sport che io amo. Vedremo allora se il 7 e l'8 ottobre a Nettuno Let's Now fragomanterrà la promessa di buttarsi e soprattutto raccoglierà i fondi per i paesini messi in girocchio dal sisma.